Ho bisogno di trovare la scuola Tramite video Io però ho fatto dettagli perché era un tutorial E non volevo iniziare con un tutorial Questa serie che Più che altro sono io a parlare come al solito Ripeto E' rimasto su Sperando che non gli sia successo nulla di male E la la sta morendo di freddo In frattempo io perdo tempo a chiacchierare con voi Allora Come al solito c'è sempre qualche problema Non posso stare senza problemi Per un po' di tempo Non ho continuato la serie Non perché questa volta magari avevo voglia di giocare a Skyrim E quindi ho trascurato le altre Semplicemente perché ho avuto Altre segnalazioni Riguardando i discorsi che tratto in cronica mitologica Ultimamente avevo lasciato da parte La religione infatti ho parlato Sì vabbè ho citato di Mosè e cose varie Ma il fulcro era diverso Si parlava di fondo ed eterna giovinezza Di discendenza divina Roba che non ha nulla a che vedere con la religione O perlomeno non ho mai tirato in ballo questa volta Comunque mi sono arrivate altre critiche Tra cui segnalazioni e un'altra è andata a buon fine C'è YouTube l'ha riconosciuta come tale Quindi ho due strike al momento Alla terza segnalazione che verrà accettata Quindi al terzo strike Il mio canale chiuderà definitivamente Perché ho aspettato? Quindi ho scritto YouTube YouTube mi ha fatto sapere Un operatore mi ha risposto Stavolta e mi ha fatto sapere Che faranno ulteriori controlli E se i miei video risulteranno idoni Eccetera 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 Toglieranno gli strike Ora questa cosa è positiva È positiva in quanto che magari Non hanno fatto i giusti controlli E quindi magari si risolve tutto per il meglio Ma ovviamente reputo Tutta questa situazione molto grave Molto grave Io voglio sperare che davvero loro sono stati superficiali Non hanno controllato Perché davvero Perché davvero Se qualora loro hanno fatto i controlli E hanno ritenuto giusto Censurare Cioè bloccare il mio video Per gli argomenti che io ho parlato Discusso con voi Qui siamo tornati davvero al medioevo Alto Altissimo medioevo Infatti cosa ho scritto a loro? Un giorno ve la farò leggere quelle mail Quando sarà tutto risolto Che in modo Se anche in modo negativo Se in modo positivo Prima o poi ve la farò leggere Un papiro tanto Ho citato Giordano Bruno Galileo Galilei Perché quello è Io non sono ai livelli di quelli Sia chiaro Per carità di Dio Ma Ma semplicemente è questo Uno espone le idee Che Per le quali magari Un sistema non è d'accordo Questo Il sistema fa di tutto per bloccarti E in questo caso censurarti È quello che hanno fatto in passato Quelli l'hanno pagata con la morte Io quello che sono del canale Sono due cose molto diverse Fortunatamente Sono cambi dei tempi Beh Perlomeno Io non corro quei rischi Perché grazie a Dio Noi abbiamo leggi laiche Grazie a Dio Ma se avessimo avuto leggi religiose Non era che Non mi andava molto bene Non mi andava molto bene Quindi Io aspettavo una risposta di questi Di Youtube Che mi faceva sapere Non è arrivata Non è arrivata Ancora Mi ha detto Entro questa settimana Siamo È venerdì Forse arriverò oggi Stasera Domani Domenica Non lo so Sto in attesa Perché sto facendo questo video Perché mi è arrivato un altro messaggio È sempre di questi Che mi rompono Un'email Ogni volta cambiano email Sono sempre straordinari Perdono anche tempo A cambiare account Io mi auguro che sempre uno Almeno Almeno reputo Meno grave la situazione Perché davvero Se sono Più di Se sono tante persone Davvero quelle che mi prendono di mira Vuol dire che davvero L'umanità è messa davvero molto male Spero che è circoscritta Su un individuo Un individuo cretino Non è stupido Almeno Ne è uno solo Che perde tempo A fare tante segnalazioni Vabbè Vabbè Inaccettabile uguale Perché nel 2016 Però Vabbè Ma se ne è più di uno La situazione non è buona Accampamento Questo mi ricorda Dove fare solo Skyrim E tutti gli altri giochetti Perché quello è il tuo pubblico Questo è il messaggio Uno dei tanti Però Che ha fatto sì Di Cioè Che non sapono resistere Quindi registrare questo video qua Allora Allora raccogliamo intanto Questo materiale Per fare questo Fuoco L'area ne ha bisogno Poverina Sta gelando Giustamente del legno Ok Infatti era proprio quello che mi chiedevo È andato bene È secco Risorse per fabbricazione Raccogli le piante E squagli animali Per creare oggetti Il fatto che sono cesto da poco Però non mi mette Tranquillità Ecco Per l'appunto Lara sbrigati Sbrigiamoci E andiamo subito Accendere il fuoco Perché come tutti sappiamo Più uno Buona Come sappiamo Il fuoco La tiene lontani Gli animali Tra cui i lupi Spreghiamoci Secondo me Da poco avverrà una cosa Tipo Tomb Raider Reborn Ovvero Quella scena in quick time event Dove I lupi uscivano dai cespugli E noi evitavamo A forza di premere i pulsanti Ah Una scena Hmm Sì. Perfetto, possiamo potenziare le armi. Ok, Lara è normale che abbia tutti questi problemi mentali, tutto quello che ogni volta passa, si preoccupa di Jonah, effettivamente chissà, speriamo bene. E' un bravo uomo. Qui possiamo potenziare l'arco, come possiamo vedere anche sopra la piccozza, vedete? Ci sono diversi stadi di sviluppo, vedi 2, 3, 4, va bene, non abbiamo il materiale che c'è scritto lì a destra, va bene, è facile intuire, quindi penso legno, pelli e così via. Cambiare armi, appassi in rassegna le armi dello stesso tipo usando il menu armi, ogni arma ha le proprie statistiche e i propri potenziamenti che forniscono caratteristiche di combattimento diverse. Vabbè, quello di prima, qui siamo proprio nei set dei completi. Guardiani Immortale, antico armatore di metallo scuro con cappuccio di pelliccia addosso e abbigliamento dei guardi della diritta di Kitez. Le 12 danni che ho avuto il fuoco greco. Quello è bonus. 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 Questa è quella che abbiamo adesso, cioè quella che avevo all'inizio. Cioè ci sono tutte queste cose qua, però che danno un bonus e io non apprezzo questo modo di fare dei giochi. Cioè la prima run io non voglio queste agevolazioni, però adesso me le guardo, io mi guardo i vestiti più che altro. Ok, esplodice siberiana. Pioniere. Ognuno dà una cosa in particolare. Ombra notturna. Ok, simpatici ma preferisco andare di base, che è questa perfetta per scarare le montagne in alte condizioni estreme. Mi sembra corretto andare con queste e continuare così. E abbiamo il punto abilità. Ok. Combattimento caccia e sopravvivenza. Ok, mi leggo un po' tutto ragazzi e poi vi dico cosa ho scelto. Ok ragazzi, ho sbloccato Pelle d'Ura, che fa parte della prima categoria, quella del combattimento. Subisci meno danni dal fuoco nemico e dagli attacchi in mischia. Cumulabile con l'abilità cuore di pietra. Allora, mi piacevano altre, sinceramente sul ramo caccia e sopravvivenza c'erano cose più interessanti. Ma ho detto, vabbè, per gli inizi magari subire meno danni è una cosa giusta da mettere. Poi mi focalizzerò anche sul resto. Va bene. Ora, focalizziamoci invece sul messaggio stupido e cretino che mi ha rivolto questo tizio. E prendo, riprendo proprio la discorsa del fatto che io non so di cosa parlo. Innanzitutto io... Il fatto che devo smettere di dire cose che non conosco. Innanzitutto io non ho, come al solito, ripeto, non ho fatto nessuno studio, non ho fatto nessuna scuola in particolare, non ho fatto università, non ho studiato lingue antiche, no. Tutto quello che conosco deriva da il fatto che sono andato in libreria, direzione mia, ho compato i libri, li ho letti, li ho assimilati in un mio modo. E poi, li ripeto a voi. Se questa serie esiste, è perché alcuni di voi sono stati interessati a ciò che dicevo all'interno di Scarim. Xorrim ha detto di dividere la serie di Scarim con cui racconti là. Tanto ho fatto. Però, sinceramente, ne avrei parlato meno di Scarim dopo quello che mai ha detto Xorrim. Alcuni di voi, tra cui Fabio Corvacchia, Gaetano Ruggero, Giacomo, Michele, Andrea, tra l'altro questi due non mi seguono più nel corso dei tempi, diciamo, li ho persi. Loro erano interessati a questi racconti qua e quindi ho deciso di fare una serie a parte, croniche mitologiche. Se questa serie esiste, è grazie al vostro feedback, perché qualcuno di voi era interessato. Altrimenti a me me ne tenevo per me, ma che me ne frega a me. Cioè, non me ne frega di stare a raccontare queste cose ad altri se non c'è interesse. Ma che qual è? Io mica sono un insegnante, non ci prendo i soldi per questo. Poi, lo dico sempre, io non insegno niente e tra l'altro le cose che dico valgono zero, perché non sono minimamente confermate da nessuno. Detto questo, il fatto che uno come lui mi dice, dalla sua posizione da credente, bigotto tra l'altro, che mi dice che io non so quello che dico, beh, doveva fare un esame di coscienza e capire un po' la sua realtà. Perché? Perché? Lui rientra in un contesto, diciamo, in un gruppo, di cui il 90% non sa minimamente di cosa tratta la Bibbia. Perché il 90% e più dei credenti non ha mai letto la Bibbia. Mai. Questo è un dato di fatto. Ok, l'ho preso. Vabbè, lo prenderò dopo. Questo è un dato di fatto. Questo 90% e più di credenti che non hanno letto mai la Bibbia, è convinto che all'interno della Bibbia stessa però ci siano le verità, nonostante non l'abbiano mai detta. Gli insegnanti di questi credenti, sono preti, viscovi, cardinali, papi, catechisti, eccetera, eccetera, insegnano appunto a questi credenti che non leggono la Bibbia quello che c'è scritto all'interno. Il problema è che questi qua non conoscono la lingua d'origine con la quale è stata scritta la Bibbia. Non la conoscono affatto. Questi qua, questi insegnanti che spiegano ai credenti che non hanno mai letto la Bibbia e che tra i loro insegnanti non conoscono la lingua ebraica, lingua con la quale è stata scritta la Bibbia, loro sono sicuro, convinti, che la Bibbia deve essere letta in modo teologico, ovvero deve essere interpretata. E non letta in modo letterale, come qualsiasi altro libro. Tutto questo non è paradossale, assurdo? Poi il termine paradossale mi fa rinvenire in mente quello che dice San Paolo, l'ideatore del cristianesimo. Lui dice, il cristianesimo è una religione che deve essere appresa dai poveri di spirito e non dai greci che ricercano la sapienza, ma sapete cosa significa? Cioè, proprio in soldoni, in parole facili, avere fede, cioè quelli che devono avere fede devono essere quelli che non ricercano la conoscenza, quelli ignoranti, tra virgolette, non i sapienti, i greci, che la vogliono. E questo è perfettamente coerente con le statistiche che vi ho appena detto. Cioè, con il fatto che i credenti non leggono la Bibbia, ma ci credono fermamente nonostante non la leggono. È perfetta. Paolo è un genio. Per quanto io detesto quello che ha fatto, lui si deve riconoscere, è un genio. Mamma mia, è riuscito a fare una cosa davvero impensabile. Impensabile. Ok. Andiamo sotto. Qui non si può andare. Ora. Ora. Io ho citato prima Giordano Bruno, ho citato Galileo Galilei. Giordano Bruno è stato arso vivo per alcune cose che ha detto. Lui negava molte cose che invece per la Chiesa erano sacre. Cose che sono sacre ancora oggi. Tra cui, tipo la non esistenza di Satana, la negazione della Trinità, alcune molti dogmi della Chiesa e così via. Queste cose qui, per quali Giordano Bruno è stato bruciato, ancora oggi, per la legione cristiana, cattolica meglio dire per noi, sono fondamentali, che rientrano in modo categorico nella dottrina che viene spiegata ai bambini di tutto il mondo. Cioè, io mi devo spiegare questo tizio qua, che tra l'altro secondo me è lo stesso che mi ha detto, il fatto che tu neghi l'esistenza di Satana, non è altro che avvalorare l'esistenza di Satana, perché lui vuole esattamente questo. Ma... Quando? Quando? Voglio sapere. Satana dice... Faccio fatica. Faccio fatica perché sto parlando per me di cose talmente assurde. Quando è che nella Bibbia c'è scritto che Satana dice che se non parliamo di lui, lui si manifesta maggiormente in noi? Diventa più potente. Quando? Quando? Dov'è scritto? Quando? Non c'è scritto, non c'è scritto. Nella Bibbia non c'è Satana, non c'è minimamente. Facciamo una cosa, questa roba qui la leggiamo tutte insieme dopo. Ok? Preferisco. Non c'è scritto minimamente. Satana non c'è nella Bibbia. E non perché voglio fare il suo gioco, e non perché sono un satanista, come qualcuno mi ha detto. Assolutamente no. Lucifero, mettitelo in testa tu, mettitelo in testa che Lucifero sta per la stella del mattino, per Venere, per i Romani. Ok? Per i Romani, Lucifero, cioè che in pratica in latino era Lux Fer, che stava per appunto portatore di luce, proprio per parlare della stella del mattino, appunto Venere. Per i Greci era Fosferro, stava per Fosfero, Fosforo, appunto, stella del mattino, Seme per parlare di Venere. Una cosa del genere, comunque se ho detto male, ovviamente mi correggerò sotto nel video con la scritta. Stella del mattino, allora, quali sono le stelle più luminose del cielo? Allora, già in tutto a cui tempi, il cielo era molto più luminoso e quindi gli antichi potevano osservarlo meglio di noi, ad occhio nudo. Oltre al sole e ovviamente la luna, e ovviamente a Giove, che è la stella più grande, quindi la più visibile, l'altra era Venere. Ma cosa accadeva? Venere a un certo punto scende giù. Quindi, dal momento che la teologia, Paolo furbissimo ha creato tutto il fatto che l'angelo caduto, è stato assimilato a questo fatto che nell'Antico Testamento si parla della stella del mattino che scende giù e che cade, che a un certo punto l'uomo non vede più. Quindi, tu che sei caduto e che c'è rimasto però Giove, Giove, signore, no? Zeus per i greci, quindi un mischiume totale, che non ha nulla a che vedere con il signore degli inferi, con il diavoletto, con le corna rosse, con il punginio, non c'entra niente, non c'entra niente. Queste sono vostre idee malate, tra l'altro, malatissime. E scusa se mi permetto. Cioè, ma mi permetto perché sono infondate, non ci sono nella Bibbia, non ci sono, mi dà fastidio, detesto questo modo di farlo, lo detesto. Significa mancare di rispetto a quel testo. Io non voglio infangarlo a quel testo, assolutamente no. Significa mancare semplicemente di rispetto. E voi lo fate, lo fate continuamente. Allora, ok. Oh, c'è un maschio di cervo. Una preda ambita per me. Uno. No! Oh, però cavolo, corre tantissimo nonostante è ferito. Vabbè, mi devo ricordare dove è andato. Prendiamo queste piume, che come abbiamo visto, serve per creare frecce. Ragazzi, io vi perdono se sono un po' confusionario, ma poi mi nervosisco e capita, capita. A parte non sono stato mai tanto chiaro nei discorsi quando gioco, ma cerco di esserlo il più possibile, dai. tu sei un ignorante cretino, esattamente come le pocorelle che vuole San Paolo. Appunto, i poveri di spirito, sei uguale, rientri in quella categoria. Tantissimo. Qui sono stato. Ci rientri alla grandissima. Con te ha fatto jackpot San Paolo. Sta proprio, è ricco, è ricco con te San Paolo, tantissimo. Buono. c'è affatto soltanto questa parte qua, eh? Siamo sbloccati i vari segreti. No, no, cosa sto facendo? Ecco qua. Andiamo lì. Allora, cercando di riprendere i discorsi. Il fatto che io sto dicendo che tu sei un cretino, in realtà, è corroborato dal fatto che il termine cretino, la sua origine etimologica è proprio cristiano. Tu sei un cristiano cretino. Esattamente come l'etimologia di quel termine. Ci rientri in modo perfetto. Tutto. Tu e anche gli altri, quelli che mi hanno segnalato, tutti, tutti indistintamente, rientrate nel termine, nell'etimologia del termine. Sia chiaro, sia chiaro. Io non dico che i cristiani, i credenti sono cretini tutti. No, no, no. Io, ho, la maggior parte dei miei conoscenti sono credenti. la mia famiglia stessa è credente. Per me sono intelligentissimi, sono delle bravissime persone. Anzi, io non conosco nessuno come mio padre e mia madre, delle persone eccezionali. Quindi, assolutamente. Ma, ne approfitto, perché casca a pennello l'etimologia di quel termine. In quel caso, cretino, sta per rimbambolato. Qualcuno che non capisce bene la situazione. Capito? È diverso. però, ne approfitto. Questo ne ha approfittato anche Odifreddi tempo fa e io. Rissi come un cretino, anche io. Opere dei mongoli. Io avevo visto. E in questo caso non l'avevo mai riconosciuto la scrittura mongola. Bisogna sbloccare anche qui livello 1, un po' come ho fatto con il greco nel primissimo video. Ok. Quella corda parte da là, ma come ci si arriva lì sopra? Ecco. Quella cosa l'ho vista. Quella è di fattura mongola. Mi sono convinto. Il grande Khan. Gengis Khan. Massima stima. Trinity. Sono qui. Come in. Hai capito? Oh, shit. What the hell was that? Beh, il gioco ha spoilerato verso di orso. Certo, si sentiva che era un orso, per carità. Quindi, orsi e lupi. Bene. Lara, siamo tranquilli. Va bene. parte che sia molto interessante perché adesso c'è anche il fatto dei mongoli e devo leggere quelle cose che ho trovato. Chissà quanta roba interessante c'è scritta lì. Va bene, un po' per volta. Vedete? Questi sono vecchi insediamenti. Io stavo dicendo stima per Gengis Khan stima più che altro. Mi piace leggere la storia del passato come sapete è stato quello che ha conquistato più terre più terre in assoluto nel pianeta Terra. Cioè, nessun uomo ha riuscito a fare come lui. Neanche il grandissimo Alessandro Magno è riuscito a eguagliare tutto quello che ha conquistato Gengis Khan. è per questo che lo rispetto quello che ha fatto ha fatto molte cose terribili ovviamente non lo rispetto come persona ma per quello che è riuscito a conquistare. Allora seguiamo queste corde perché sono sicuro che lì sopra questi queste parti in alto ci sono robe interessanti. Ok si sta facendo buio o sbaglio? Oh 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 buono oh oh altrettanto buono Questo mi ricorda Resident Evil che devo cercare il punto esatto dove lei poi approfondisce quello che è successo all'oggetto una corona di uno dei principi di Kiev non conosco bene la storia dei principi di Kiev ma sicuramente fa parte del periodo del profeta vi ricordate quando il primissimo video ci lo scrive abbiamo trovato un oggetto che la radice appartiene proprio al periodo del profeta e dice nel decimo secolo quindi novecento dopo Cristo ecco ecco se non sbaglio i periodi dei principi di Kiev era pure quelle parti in là della storia sinceramente pensavo un po' più tardi tipo mille mille trecento dopo Cristo cioè quell'arco lì storico ma forse anche prima ci sono state sicuro sicuro dai non possono fare questo errore ne so poco ne so poco ma tutto rientra comunque con i canne oh ora potrò il mongolo livello 1 vedete eh se ci ha sbloccato questo vuol dire che per forza sono accomunati la civiltà mongola con i principi di Kiev cavolo peccato che ne so poco altrimenti adesso ne ha approfondito volentieri chissà cosa è successo giù vediamo un po' qui ah ok hanno lasciato delle scorte di monete di tesori che sono queste perfetto vabbè prendiamole le prendo tutte ragazzi abbiamo moglie e marito che sono claudicanti e li ho colpiti io con le frecce guarda che pena però queste cose certo dire questa cosa e poi gli ammazzo è ancora più spietato di per sé ma è solo un gioco fortunatamente io non non sono così mal messo da uccidere delle bestie non so io se ce la farei mai comunque e in un lato ci penso a queste robe qua e cioè sono sono un debole sotto questo punto di vista certo sicuramente in situazioni di sopravvivenza diventiamo delle bestie ma è la sopravvivenza che ci lo porta no a comportarci come animali alla fine noi siamo animali è giusto ricordarle ogni tanto ma quelle cose là secondo me è tutto collegato ma ci devo arrivare dall'alto non c'è un punto per salire rettivo per fabbricare frecce non me le fabbrica ancora forse non c'ho disponibilità va bene vediamo un po' qui oh ok e un altro perfetto ragazzi tra un po' leggiamo anche perché devo aggiungere davvero poco anzi ho ho finito ti ho ti ho descritto abbastanza la tua situazione caro il mio scrittore silenzioso cioè silenzioso che non anonimo anche se appare la tua mail so benissimo che è stra fake perché dopo tutto di solito chi fa così è un codardo è normale oh eccola qua ecco hociato anche le corna è interessante va bene prendiamo questo tesoro lì ho visto una caverna ho visto una caverna ho sempre l'ora di lasciarci cose io le odio non dico che sono no no sono un magnico nello sbloccare tutto a direvolo nei videogiochi specie quando il gioco mi rapisce come questo è bello perché poi specie ancora di più quando c'è qualche manoscritto che approfondisce la storia ci sono solo le monete e sti cavoli ecco anche lì vedo qualcosa ci siamo quasi ragazzi ancora magnesite va bene e questo poveraccio l'ho lasciato anche lui scritto qualcosina ok vediamo adesso cercava di sfuggirmi questa qui vediamo adesso cosa c'è nella parte centrale prima di salire sopra diciamo dove è rivolto l'obiettivo principale e poi ci leggiamo un po' tutto sì perché no tipo lì parte centrale là perché penso di aver visto completamente qualsiasi cosa vedi ci sono queste reliquie documenti forzieri sfide ma allora a parte che sono chiusi alcune parti noi non ci possiamo andare perché ci servono armi da fuoco corde rinforzate e qui sopra per me questa parte qui in alto che portava in quella parte centrale la si può raggiungere da là e non ci possiamo andare forse da qua su sì però allora qui non c'è nulla quindi proseguiamo allora ma prima di proseguire leggiamoci un po' quello che abbiamo trovato allora sono qui quelli che ho preso adesso voce dell'invasione queste due perché non ho preso tre e il cacciatore questa qua nella tomba allora almeno credo sì tre mongoli questo è sicuro tre mongoli del lord c'era un inviato della trinità e fu lui a guidarli alla ricerca della città perduta per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo come inviato dell'ordine della trinità il loro canna è un grande condottiero nonostante i suoi modi brutali grazie alla mia influenza li ho aiutati a conquistare nazioni a mettere a ferro e fuoco città e uccidere i principi sempre alla ricerca del profeta la nostra strage di russ non è stata inutile perché oltre al bottino abbiamo trovato la mappa si rifà tutta quella questione infatti dei principi russa russa stava per con russa si identificano alcune genti della parte orientale parte della russia sud della russia quelle parti là quindi si rientra in quel periodo storico e questa mattina dopo mesi trascorsi sulle montagne abbiamo finalmente scoperto degli edifici in una valle verde circondata dai ghiacci abbiamo trovato Kitez ho riferito al canne di tutte le ricchezze che saranno sue e questo basta a motivarlo ma la vera vittoria sarà per dio quando eliminano dalla terra le menzogne del profeta alla fine la sorgente divina sarà nostra bello bello il fatto della sorgente divina che c'è c'è presente allora questo allora i mongoli schieravano in prima linea eserciti di prigionieri in una strategia orribile ma efficace questi molti l'hanno fatto moltissimi abbiamo fatto sapere agli abitanti della città nella valle che attaccheremo all'alba ma avanzeremo appena la luna si alzerà in cielo coperti dai Karash i progenitori catturati nelle battaglie a ovest che ci faranno l'ascuro durante l'avanzata pochi saranno sopravvissuti alla lunga marcia sulle montagne ma quei pochi ancora vivi saranno utili alla casa dell'orda la città risplende un regalo in attesa di essere donato prenderemo quello che ci aspetta e torneremo a casa con il bottino le strategie che utilizzavano nella tomba l'ordine della trinità incaricò un emissario di seguire il profeta ho cercato di raccogliere più informazioni possibili su un massacro nella tomba del profeta negli ultimi giorni i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro fino all'ultimo i seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui ma alla fine hanno vinto ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto lasciati con la minaccia che questo posto debba rimanere nascosto non so se il profeta sia provvissuto ma seguirò le loro tracce nessuno sfogge all'ordine della trinità è una setta molto molto pericolosa e questo non c'è neanche bisogno di dirlo proseguiamo non lo capisco bene la neve rallenta quindi il momento impedisce determinate azioni il fatto che me l'abbia presente fatto presente perché sarà utile nei fini del gameplay ah qui c'è proprio il punto dove ha sparato oh è caduto adesso ammazza quanto tempo è rimasto in aria Lara siamo pronti io non ho frecce come è possibile che non ho frecce l'ho consumata bisogna andare lì eccolo qua l'orsacchiotto oh allora qui serve quello è il punto della neve alta sono convinto ah no questo era diverso il punto però forse lì c'era la parte della neve mena 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 sono io che controllo Lara adesso no mi sono ricordato di cerchio cioè di c ah Cristo gli va sempre male una scena Lara di cerchio Ok, va bene. Diciamo che questo inizio è tutto un grande tutorial, dai. Allora, concludo quel video. In definitiva. Evita di segnalare i video. Ma davvero, ma perché bisogna tornare indietro nei tempi? Io posso avere la libertà di dire quello che voglio. L'importante è il rispetto. Ora, con te non ho avuto il rispetto perché tu non me l'hai dato. Mi sono magari messo al tuo livello? Non lo so, può darsi, ma quello che fai tu è molto, molto pericoloso. Fortunatamente è circoscritto a poche persone, ma come te ce ne sono molte altre. Il che è gravissimo. Siamo nel 2016, cioè, diamoci una svegliata. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile questo? Io l'ho fatto leggere agli amici miei, si sono sganassati da ridere. Ma alcuni neanche ci credono. È assurdo, è assurdo. Adesso ho visto questo orso. Tu ad esempio, no? Credi ciecamente a ciò che è scritto nella Bibbia, no? Tu credi ciecamente a ciò che... A ciò che ti spiegano gli insegnanti. Beh, ti raccontano che il Dio della Bibbia è un Dio buono, d'amore e di misericordia. Ti cito un passo, solo perché mi è venuto in mente, grazie all'orso, secondo Libro dei Re, parliamo dei primi tre capitoli se non erro, o secondo il primo Libro dei Re, adesso faccio confusione, ci sta Eliseo, uno dei personaggi biblici, diciamo, importanti, sta facendo una salita. A un certo punto dei bambini in alto a questa salita lo offendono a morte, ma lo offendono... riguardo la sua calvizia era pelato, era un uomo pelato, Eliseo. Lo offendono e dice, Eliseo pelato, Eliseo pelato. E Eliseo si arrabbia contro i bambini, invoca il nome di Yahweh, Yahweh, cosa fa? Ovviamente si schiera dalla parte di Eliseo, Yahweh si schiera sempre dalla parte più forte, sempre, devi sapere questo, manda due orse che massacrano i bambini, ma le orse non si fermano lì, va nel villaggio vicino e ammazza 25 bambini. Questo è ciò che fa Yahweh. Questo è perfettamente coerente con il Dio biblico, meglio dire con Yahweh della Bibbia, e non le favole che ti racconta la teologia. Ok? Ci siamo? Lo chiudo qua. Un'ultimissima cosa, un'ultimissima cosa. Se riuscirai o riuscirete a farmi chiudere il canale, il dispiacere mio, sai quale sarà? Il fatto che tutta la serie di Skyrim andrà a morire, perché io poi non ricaricherò mai tutti quei video, è atroce, ma questo è a causa della mia connessione che fa schifo, altrimenti non avrei nessun problema. Magari fra due anni, quando c'è la fibra, poi ricaricherei tutto. Ma se riuscite a chiudere il mio canale, io ne riapro un altro e mi dedicherò solo a questi temi. Cioè io mi incentrerò esclusivamente a questi temi. E ti giuro che i primi dieci video, almeno, sarai incentrati tutti, tutti sulla religione cristiana cattolica, tutti lì, tutti lì. E parlerò e ti massacrerò Gesù e Dio. Ma lo farò con una solita tranquillità, in base a quello che c'è scritto nei testi, non perché io odio quei personaggi lì, assolutamente no. Io offenderò, perlomeno, l'interpretazione che si danno di quei personaggi. Li rispetterò al massimo, per quelli che sono. Ciao a tutti. Grazie a tutti.